Ciao, sono Peppe e in questo video voglio parlarti della mia esperienza con infomarketing Livestive X. Ma vada bene, questa non è la classica recensione in cui ti dirò quanto ho guadagnato grazie alle tecniche di Miccosentino. Se segui i miei video già sai il lavoro che faccio. Ma ti parlerò di un'altra cosa ancora più importante che grazie a infomarketing ho guadagnato. Il tempo. Il tempo per stare con mia moglie, il tempo per stare con la mia famiglia, il tempo per giocare all'Xbox e per fare tutte le cazzate che volevo. Ma come ogni testimonianza che vale la pena vedere, ti racconterò la mia storia, magari ti identifichi. Bene, la mia storia con Miccosentino nasce nell'ottobre del 2018. Hai capito bene? Qualche mese fa. Quello era il periodo peggiore della mia vita. O meglio, dal punto di vista di tempo. Perché il lavoro andava bene, i business li avevo lanciati. Contatto, chiudi contratto, fai soldi, lavoro, tanto. Ma mancava una cosa, mancava il tempo per spendere quei soldi. E io amo spendere i soldi insieme a mia moglie, a mia sorella, a mio padre e a mia madre. Vedi, lavorando tantissimo non avevo più tempo. Avevo bisogno di automatizzare le mie entrate. Ed ecco che parte la mia esperienza con Infomarketing Livestile. Perché grazie a Infomarketing ho capito come automatizzare tutte le mie entrate. Come automatizzare i miei business. E il cosa bella? Come crearne di nuovo. Non ti dirò in questo video che sono diventato ricco grazie a Miccosentino. Assolutamente no. Viviamo nel mondo reale. Ma posso dirti che ho guadagnato un sacco di tempo da vivere con la mia famiglia, con mia moglie, con mia madre, con mio padre, con mia sorella e con i miei nipotini. Beh, non voglio dilungarmi tanto in questa recensione, perché sono sicurissimo che avrai già visto la mia intervista su YouTube che ho fatto con Miccosentino un paio di mesi fa. Ma voglio concludere col dirti una cosa. Fai azione, amico mio. Fai azione. E fidati di tutti noi che stiamo lasciando questa testimonianza. Sì, può sembrarti finto, può sembrare strano questo mondo, può sembrarti anche un po' arrogante Miccosentino, ma ti posso assicurare che quello che troverai all'interno di Infomarketing X potrà rivoluzionare la tua vita. Così come ha fatto a me. Questione di Mindset. Week 2. Alla prossima. Ti aspetto nel gruppo. E quindi, play the game. Ciao.